La festa di San Giovanni Battista va verso il suo culmine domani e dopodomani, 25 e 26 agosto, è il momento di una due giorni ricca di appuntamenti culturali di notevole spessore. Gli eventi saranno anticipati domani mattina con il tradizionale raduno del cavallo Ibleo, storica sfilata di carretti siciliani, cavalli da sella, calessi, carrozze e bici da corsa, con partenza alle 8.30 da Via Roma, di fronte al Vescovado. Il 25 agosto, presso il Palazzo del Museo della Cattedrale di Corsa Italia, alle 18 è prevista l'inaugurazione delle esposizioni 2013. Saranno aperti al pubblico diverse mostre, artisti blei per San Giovanni, quarta edizione, collettiva di pittura di otto artisti, storie di legno, sculture e linee del maestro Iano Catania da Chiara Montegulfi, contest fotografico San Giovart 2013 che proporrà l'esposizione delle 15 opere finaliste realizzate da giovani fotografi selezionati attraverso le preferenze espresse tramite Facebook, convegno sull'annunzio di Pasquale, l'uomo e l'artista, dieci anni dalla sua scomparsa, a cui seguirà l'inaugurazione della mostra con sculture grafiche dell'artista. Il 26 agosto, sempre presso il Museo della Cattedrale, alle 17.30, avrà inizio l'importante e presigioso convegno sul tema La Festa Barocca in Sicilia.